La Banca d'Italia ha presentato il suo rapporto sull'economia abruzzese relativa al 2023. Segnali tutto sommato positivi, seppur con qualche criticità. A snocciolare i dati, il direttore della filiale dell'Aquila, Giuseppe Ortolani. Il rapporto innanzitutto mostra una buona crescita del PIL dello 0,9% in linea con la media nazionale, superiore alla crescita che si è vista per il mezzogiorno. Dico buona perché il quadro era complesso con tensioni geopolitiche, inflazione e politica monetaria conseguentemente restrittiva. Sono andate molto bene le esportazioni, in particolare del settore automotive e del farmaceutico e le costruzioni sono andate anche molto bene grazie agli incentivi governativi, ai fondi del PNRR e alla ricostruzione che prosegue. Ci sono settori che sono andati meglio rispetto ad altri, ma permangono delle criticità, soprattutto sulla digitalizzazione, spiega. Si evidenzia in un ambito strutturale, di analisi strutturale, che l'Abruzzo ha una competenza digitale in media inferiore rispetto alla media nazionale. Anche gli investimenti in ricerca sviluppo sono gli investimenti inferiori alla media nazionale e questi sono fattori importanti perché incidono sulla capacità di competere nei mercati del futuro. In Abruzzo la domanda di personale con competenze digitali avanzate è aumentata negli ultimi anni, pur rimalendo sui valori inferiori alla media nazionale. È inoltre più diffusa presso le imprese della regione la difficoltà nel reperire sul mercato del lavoro le risorse qualificate e richieste. Un capitolo a parte lo merita poi il mercato del lavoro. Nel 2023 l'occupazione in Abruzzo è aumentata, recuperando i livelli precedenti la pandemia, con andamenti positivi in tutti i principali comparti di attività. La partecipazione al mercato del lavoro è cresciuta, in particolare quella femminile, e questo è un dato da leggere molto positivamente.